Secondo giorno di presidio sotto i portici di Palazzo di Città dei lavoratori delle cooperative sociali, quelle fermate dall'inchiesta giudiziaria che ha portato in carcere il Dominus Vittorio Zoccola e ai domiciliari l'ex assessore alle politiche sociali del comune di Salerno Nino Savastano e il dirigente del settore ambiente Luca Caselli. Questa mattina a presidio della loro presenza c'era anche la polizia ma l'agitazione è pacifica e serena. Con il divieto di dimora a Salerno per i presidenti delle otto cooperative i circa 150 lavoratori sono allo sbando al netto anche del fatto che una parte di loro è stata già fermata con un'apposita delibera ma per quelli che stanno continuando a lavorare non si capisce cosa accadrà per il futuro. C'è chi come il neoassessore all'ambiente del comune di Salerno Massimiliano Natella ha avuto modo di fare intendere che bisognerà procedere con un nuovo bando ma non si comprendono né i tempi né le modalità con le quali si procederà. Quello che è certo al momento è che resta in bilico il servizio di manutenzione del verde pubblico e dei parchi cittadini, uno dei tanti affidato e proprio alle cooperative. Da ieri i lavoratori presidiano Palazzo di Città in attesa di essere ricevuti ed ascoltati ma il comune è chiuso non solo a loro ma a chiunque voglia accedere per interfacciarsi e prendere notizie come gli stessi giornalisti. I lavoratori che si stanno raffidando ad un sindacato stanno preparando una lettera per racchiudere le loro richieste ed arrivare così ad una interlocuzione che fino ad oggi è stata loro respinta. Secondo giorno di presidio, non avete ancora ottenuto di essere ascoltati da nessuno? Da nessuno siamo stati ascoltati, siamo due giorni che siamo qua e vogliamo una risposta almeno di qualcuno e nessuno ci fa sapere niente e si continua a stare qui sotto. Voi avete sentito l'accusa nei vostri confronti che in qualche modo siete stati costretti a votare Voi rispetto a queste accuse cosa dite? Sono stati costretti liberamente, è quello che è pezzato, è quello che ha fatto ma a me nessuno mi ha obbligato, questa è un'altra storia, non stiamo parlando di un'altra cosa. Voi ora siete qui per chiedere di poter continuare a lavorare? Noi vogliamo solamente lavorare e basta. C'è, penso che è il nostro diritto, quello che ha lavorato da 15 anni, trovarsi qua sotto a chiedere alla fine, diciamo, ci siamo pure un po' desorientati perché non viene nessuno qua a dire oh aspetta, viene che fra dieci giorni per dire si risolve lì, cioè noi stiamo qua a aspettare qualcuno che ci dice qualcosa. Una delle accuse che viene fatta alle cooperative è anche che non ci sono lavoratori socialmente bisognosi cioè che sarebbero finte cooperative sociali. Può aiutarci a descrivere, ecco, se è vero che tra di voi ci sono lavoratori bisognosi? Qualcuno c'è, qualcuno c'è, ugualmente qualcuno delle cooperative ci sono i bisognosi però ci sono anche persone che hanno bisogno di lavorare come noi, anche noi siamo bisognosi di lavorare. Come si va avanti senza lo stipendio? Come si va avanti? Vediamo. Cosa vorreste dire al sindaco in questo momento? È che noi vogliamo lavorare o in cooperativo o a qualche altra parte, comunque dobbiamo lavorare. Questo è il nostro, di tutti credo. Cosa vorreste dire al sindaco in questo momento? Se ci dà una mano perché comunque dobbiamo lavorare, non possiamo stare per strada, nessuno ci dà il da mangiare. Nessuno vi dà indicazioni in questo momento su che cosa fare? Fino ad adesso nessuno è sceso a darci indicazioni e quindi siamo quasi aspettando per un incontro con il sindaco almeno per farci sapere che dobbiamo fare.